Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fippili per lavori di miglioramento della sicurezza ci sono due chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. È avvenuto un incidente in uscita a Montelupo provenendo dal Livorno. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita la Strassigna provenendo da Firenze. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Per la viabilità cittadina Firenze per lavori in via Faenza fino al 10 aprile di vieto di transito nel tratto via Nazionale via Cennini. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!